Notte movimentata nel quartiere Sette Frati di Barletta, dove due giorni fa la polizia ha sorpreso un gruppo di malviventi mentre tentava di rubare delle auto parcheggiate nella zona. In via Martiri, 12 settembre, gli agenti hanno notato tre auto che procedevano in fila indiana a velocità sostenuta. In testa c'era una Citroen Xara Picasso, seguita da una Renault Clio spinta a sua volta da una terza autovettura, una vecchia auto bianchi Y10. Alla vista degli agenti, i ladri hanno tentato immediatamente di far perdere le proprie tracce. Il conducente della Xara Picasso ha aumentato la sua andatura riuscendo a deludere il controllo della polizia. Gli occupanti delle altre due auto hanno invece abbandonato i loro mezzi mentre erano ancora in moto provocandone lo scontro con le macchine parcheggiate in strada. Ne è nato un lungo inseguimento a piedi, conclusosi con l'arresto di uno dei malviventi, Michele Iurilli, 30 anni, di Margherita di Savoia. L'uomo era già nuto alle forze dell'ordine per il suo diretto coinvolgimento nell'operazione White Beach, che tre anni fa portò i carabinieri di Foggia ad arrestare 40 persone per detenzione e spaccio di stupefacenti, oltre che rapina aggravata, falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Michele Iurilli, condotto al carcere di Trani, dovrà ora rispondere di furto aggravato e possesso di arnisi atti allo scasso. Proseguono intanto le indagini della polizia per risalire ai suoi complici, uno dei quali sarebbe stato identificato ma non ancora rintracciato.